Mico mio ti ho visto siamo siamo amici su Instagram giusto? Chi è il Cosnevai? Ma no non è Checobomba! Ma non è Checobomba quello vero! Checco non sei te! Chi è il Cosnevai? Ma non è Checobomba vero! Chi è il Cosnevai? Ma non è Checobomba vero! Grande! Grande! Ma come è il Cosnevai? Matti? No raga cosa state facendo? Ma non era Checobomba vero! No Checobomba! Il Peppobomba! Il Peppobomba! Non ce la fai tu! Non ce la fai tu! Ma non era Checobomba vero! No Checobomba! Il Peppobomba! Il Peppobomba non si chiamava! Non si chiamava così! Grazie anche a Diego! Diego sei un pazzo! Sei un pazzo! Raga grazie! Vi voglio veramente un sacco di bene ve lo dico con il cuore in mano ragazzi! Grazie! Grazie! Grazie raga! Grazie! 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 E ricordo a tutti ragazzi una buona serata! Una buona serata ragazzi! A tutti voi non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Ma non è Checco! Ma va non sei te Checobomba! Aspetta Peppobomba! Aspetta un attimo! Aspetta no non sei te! Non sei te! Aspetta un attimo! Vai al canale! Ma va non ci credo che si te! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! Puu! Oh oh! Oh! Checco! Non ho la voce perché faccio nove ore di live al giorno! Minchia è Peppobomba! Cioè aspetta! È Checobomba! Aspetta! Non riesco! Non riesco! Non riesco! Quanto iscriviti ha? 120.000! Checco! Sono stato! Checobomba! No Checobomba! Aspetta! Grande Checco! Sei un grande! Sei un grande! Ti ho visto la prima volta a novembre che ne avevi 8.000! Bravo! Bravo! Grande Checco! Grande! 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 Non rida! Non rida! Checodonga! No Checobomba! Non ridere! Scusami ma! Mi è andata a ridere! Mi è andata a ridere! Sei un grande zio! A parte che sei un gran giocatore di Fortnite! Grande! 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 GG per Checco! GG! Non è Checobomba! Raga è Checobomba! Poi l'ho chiamato anche prima Peppogonga! Grande! 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 Grazie per essere passato amico mio! Grazie!